Un saluto da Cronboy e bentornati in U-Boat. Ci stiamo preparando alla nostra seconda missione e vediamo cosa ha da dirci il comando. e patrulliare in der Nähe ihrer Schifffahrtsrouten. Unser Einsatz ist klar, den Tonnagekrieg gewinnen, indem wir die britischen Schifffahrtswege blockieren. Das britische Empire ist mächtig, aber diese Macht hängt stark vom Seehandel ab. Die Briten behaupten, dass sie eine neue Wunderwaffe namens ASTIC haben, die unsere U-Boote überflüssig macht. Aber wir arbeiten an Gegenmaßnahmen, um dem zu begegnen. Unsere U-Boote werden nachts an der Oberfläche operieren, und wenn möglich, Wolfsrudel-Taktiken anwenden. Wir hoffen Frankreich aus dem Konflikt herraushalten zu können. Daher sollten französische Schiffe nur im selbstverteidigungsfall versenkt werden. Dies wird keine leichte schlacht, aber wir werden nicht wanken. Wir werden die schlacht im Atlantik gewinnen. stem. Und eccoci qua, abbiamo due tipi di missioni principali. Che ne vengono offerte solo di un tipo, in realtà in questo... Quest'oggi abbiamo tre missioni, uno di difficoltà alta, una media e una bassa per andare a cercare delle navi in questi tre settori. selezioniamo quella media perfetto e andiamo in magazzino a riformirci prima cosa naturalmente il carburante quindi andiamo a mettere un po' di pezzi di metallo compra un altro po' un po' di olio kit medici e metterei giù un altro po' di cibo queste sardine qua compriamo formaggio compriamo e non possiamo comprare altro perfetto usciamo vuole un giorno per caricare il tutto aspettiamo il giorno eccoci qua e ora possiamo partire per il nostro settore perfetto allora una cosa che volevo farvi vedere sono i consumi se andiamo in avanti mezza come ho fatto nella scorsa missione adesso aspettiamo che parta abbiamo circa 2700 ma in realtà anche meno chilometri a disposizione con un avanti un terzo questo valore salta a 3700 e quindi andremo in avanti un terzo per il momento anche se ci vorrà un pochino di più ma dovremmo avere abbastanza cibo per tutto a questo punto vado a vedere anche un'altra cosa vado al menu dell'equipaggio e sistemiamo alcune cose negli incarichi allora io non sono sicuro di voler tenere il marconista più sulla radio che sul che sul sonar perché questo vuol dire che quando siamo cotto al telescopio non viene utilizzato il sonar quello che voglio di sicuro fare è che quando eh madonna uno zero no priorità massima non lo so perché questi testi sono un disastro priorità massima al primo soccorso naturalmente così allo stesso modo i due no questi c'erano già priorità massima alle riparazioni a posto poi vorrei dare a qualcuno a qualcun altro anche la priorità allora questo lo mettiamo ad 8 e questo lo mettiamo a 6 perfetto anche volfe se non ha eh 9 altro da fare no questo è 8 e questo 6 ok e tutto il resto penso che per il momento sia a posto ma controlleremo in realtà man mano che andiamo intanto noi stiamo ancora navigando in uscita dal porto navigazione naturalmente lunghissima vedete che non abbiamo fatto tantissima strada in questo minuto o qualcosa ok andiamo qua e andiamo fuori più veloci allora un'altra cosa che vorrei fare prima di arrivare in zona operazione è andare a mettere la schedule dell'immersione immersione immersione allora per la notte facciamo allora per il giorno facciamo 1 2 1 2 1 2 1 2 e per la notte 1 1 1 1 perfetto allora questa schedule in realtà non viene applicata fino a che non si attiva questa funzione qua che è questa e quindi noi finché siamo in crociera avvicinandoci alla zona operazione staremo sempre in immersione nuova comunicazione un convoglio direzione 135 a 8 nodi 135 a 8 nodi non lo riusciamo a intercettare andiamo comunque in questa zona ok e continuiamo altra comunicazione speriamo che mercantina in settore navale stimata velocità media rotta meridionale stiamo eseguendo altri ordini buona fortuna ok questo è già più interessante quindi cancelliamo totalmente l'ordine no non totalmente andiamo da qui e cerchiamo di intercettarlo perfetto e ora possiamo far partire la schedule convoglio avvistato convoglio settore navale in seguimento due piroschevi tre navi di scorta abbiamo trovato delle eliche a sud vediamo se sono per caso intercettabili proviamo a seguirla andiamo avanti no mi sembra che si stia allontanando ok e cominciamo ad andare verso nord allora adesso è pieno giorno abbiamo sempre rilevato queste eliche facciamo ancora valutare la distanza ma penso siano sempre questa volta sembra che possiamo intercettarlo effettivamente perché sta venendo verso nord e quindi direi che andiamo in intercettazione e siamo finalmente a portata visiva a questo punto io mi sposterei da questa parte avvistamento avvistato fumaiolo mandiamo messaggi e prendiamoci un quota periscopio ok e cominciamo a mettere la nave in navigazione silenziosa sono le nove quindi abbiamo tutto il tempo di giorno abbiamo bisogno qualcuno pronto in camera di tiro allora cominciamo a eseguire manutenzione uno perfetto ok siamo sott'acqua eccoci qua siamo quasi pronti all'attacco bisognerà svegliare qualcuno il nostro obiettivo è arrivare a circa due chilometri massimo dal nostro avversario e indicativamente tirare dritti ma per prima cosa dobbiamo vedere se il nostro avversario è effettivamente un avversario che noi abbiamo incrociato questa nave non sappiamo ancora se è una nave battente bandiera inglese in questo momento possiamo attaccare solo navi battente bandiera inglese andiamo a vedere un po' cosa ci dice il mondo qua fuori allora possiamo metterci in questa allora facciamo un po' di conti questa nave sta venendo su così quindi noi a qui saremo a circa un chilometro facciamo un classico attacco 90 gradi fast night qualcuno l'ho sentito chiamare qualcuno anche meno di fast night anche meno di un chilometro di velocità avanti lento e ora andiamo a vedere che cosa è questa nave e speriamo negli inglesi ok è una nave norvegese non possiamo attaccarla direttamente ma possiamo ispezionarla quindi andiamo in emersione peccato eravamo in posizione perfetta per un attacco non ci ricapiterà mai più andiamo in visuale di sezione ed eccoci qua e avanti mezza per l'intercettazione acciniamoci ancora e andiamo via delegazione sul mercantile sul mercantile mandiamo non penso che nessuno che conosca o sappia fare l'accento svedese quindi mandiamo andiamo a noi stessi e quattro marinai continua e qualcuno deve portare l'esplosivo se è qualcuno magari ok esci continua delegazione partita ecco qui la nostra barchettina che si sta avvicinando dopo essere saliti sul ponte il tuo equipaggio riceve un freddo benvenuto dall'equipaggio della nave cosa volete chiede il capitano tedesco senza nessuno scambio di formalità ah meno male che è tedesco questa è una nave neutrale voi non dovete trovarvi qui chiede le bolle di carico il capitano dei documenti che descrive il tipo di merci caricati sulla nave la loro destinazione si aspettava questa richiesta e ti consegna subito i documenti che aveva preparato comincia a esaminare il contenuto con attenzione il capitano ti sembra leggermente nervoso secondo i documenti la nave è diretta al porto di Bergen e trasporta scorte mediche se i documenti sono corretti la nave non è coinvolta nello sforzo bello di cui affondarla potrebbe provocare un incidente diplomatico di una certa gravità accettiamo ispezioniamo la stiva danno conferma che puoi dare un'occhiata se necessario ti invito a seguire dopo un breve cammino e ti ritrovi nella stiva di carico della nave su equipaggio inizio in ispezionare la stiva e la ricerca di potenziali merci di contrabbando ok c'è solo annulla però va bene penso che ah questo è l'avanzamento intanto un altro fumaiolo all'orizzonte rilevato spero sia un altro contatto e non una torpediniera che viene a darci la caccia ricordiamoci che siamo sempre in mare aperto e possono anche passarci aeree sopra la testa mentre noi facciamo queste operazioni non hai trovato nulla di sospetto gli ufficiali hanno dato parte del carico ma non è stato segnato nulla di insolito incontro il capitano nel suo ufficio ritorna sommercibile so che siamo assolutamente nel abbiamo fatto la cosa giusta e possiamo continuare le nostre operazioni sempre a macchine avanti un terzo andando in questa direzione perché ricordo che questa nave veniva da sud ma noi stavamo cercando una nave che avevamo sentito venire da nord cancelliamo queste righe inutili e proseguiamo ok abbiamo rilevato delle eliche intercettazione impossibile a questa velocità andiamo a velocità più alta se ok possiamo intercettare e andiamo a questo punto noi siamo a velocità massima possiamo fare una cosa per intercettare più velocemente andiamo in superficie e vediamo se raggiungiamo l'obiettivo allora tre messaggi da mandare ok altre eliche gruppo 4-9 unità 2-7-8 questo sembrerebbe intercettabile proviamo a vedere mi dice intercettazione impossibile no effettivamente si sta avvicinando la direzione è quella sbagliata quindi quindi noi continuiamo ad andare comunque vedete che con questa tecnica di andare un po' in immersione un po' in immersione si trovano un sacco di navi in zona operazioni il problema è avere fortuna e trovare qualcosa nella direzione giusta l'U-48 lo scopriamo tra un momento cosa ci dice ok continuiamo allora un'altra cosa di manutenzione che dovremmo fare andare a vedere la cucina a parte che manca il cuoco e andare a metterci un po' di cibo sentite una roba brutta sentite una parola che sembra destroyer ma allora questo è il gruppo orientamento 314 411 314 questo dovrebbe essere intercettabile no ma se diamo un po' di velocità invece ancora no 314 dovrebbe essere in questa direzione strano che non è intercettabile ok ci stiamo avvicinando abbastanza proviamo a tagliarlo così questo è un altro gruppo orientamento 9 e questo è il nostro gruppo di prima intercettazione ancora impossibile ci dice proviamo a mandare qualcuno al motore mandando qualcuno al motore ci dà più velocità ma ci dà ancora intercettazione impossibile ho paura per la per i consumi questo messaggio è seguito le segnali di rilevento potremmo attraggiare il sorgente affinché la trasmessa si attiva allora un voglio avvistato rotta 158 ok ok adesso sembra che abbiamo un'intercettazione più precisa è piena notte adesso facciamo un'ora sopra un'ora sott'acqua stiamo cercando di a tutti i costi di raggiungere questo convoglio non l'abbiamo ancora non l'abbiamo ancora raggiunto adesso andiamo di nuovo sott'acqua per vedere dov'è ok è a 3 km sud possiamo cominciare a rallentare e questi quasi certamente sono inglesi ok siamo in fase d'attacco 700 metri stop e aspettiamo a questo punto il problema è che è piena notte io devo accendere le luci rosse mettere la navigazione silenziosa perché altrimenti potremmo essere sentiti e vediamo cosa ci passa sopra oh ecco partiamo malissimo nave da guerra sconosciuta vediamo se non ci rileva un'altra un'altra nave da guerra un'altra nave da guerra un'altra nave da guerra un'altra nave da guerra aiuto un'altra nave da guerra allora se qui a meno che ci sia una porta aerei io non non mi faccio vedere aiuto siamo finiti in un convoglio militare ma c'è proprio niente qua cioè tre giorni a inseguire un convoglio militare abbiamo fatto beh certo potevo anche guardare che andava sette nodi ok siamo stati belli silenziosi e ce la siamo cavata ok avanti un terzo e fuori dalle balle madonna che fortuna che abbiamo due intercettazioni un convoglio e una nave danese piena di medicinali ok allarme annullato direi anche emersione a questo punto l'elemento motore dell'elica e tutto quello che potete dare ok rientriamo nella allontaniamoci il più possibile da questo gruppo e rientriamo tanto è un altro giorno non abbiamo fatto neanche metà della nostra un'osservazione è arrivato un messaggio importante siamo stati informati che un'importante figura politica militare britannica è a bordo della Isle Corvetta diretta verso il porto di Londra la nave fa parte di un convoglio che viaggia alla velocità di 9 nodi chiamiamo la sua posizione attuale del convoglio nel settore AN488 corrotto a 1-3-4 detesto questi tipi di missioni perché appunto era il convoglio che penso che abbiamo appena fatto passare perché se è la 4-3-4 va bene noi possiamo provare ad andare verso la 4-3-4 però è un attacco a un convoglio militare detesto questo tipo di missioni non potete darmi cioè è il primo è il secondo episodio il primo reale di guerra non potete darmi una bella barchetta stupida 5-11 distanza media in allontanamento va bene continuiamo così alta trasmissione dell'amiragliato appena riusciamo a sentirla eccoci qua stiamo ricevendo aggiornamento sul convoglio nel 7-2-6 7-2 e come ci è arrivato nel 7-2-6 rendetevi conto nel tempo che ho fatto così questo è passato da qui a qui o non avevano o l'ammiragliato se ho bevuto qualcosa quando mi ha dato la prima posizione del convoglio o non si capisce ok queste in avvicinamento sono 4-9 sono intercettabili quindi andiamo a intercettare queste di nuovo notte 1-44 in avvicinamento 4-9 30-50 30-50 partiamo partiamo con la nave partiamo con il convoglio no guarda peroscopio grazie eccoci fermiamo i motori allarme abilitato ed è un altro convoglio militare assolutamente un altro convoglio militare avanti un terzo non facciamoci sentire andiamo a vedere se riusciamo a trovare quella nave isolata ok un'altra nave direzione a questo punto quota periscopica abbiamo beccato un'altra nave quindi se rivecchiamo e altri 6 oh mio dio questo scommetto che è un altro convoglio militare eccoci qua voglio questa ok 4 km dai un po' di fortuna almeno una nave un peschereccio un qualcosa ok andiamo qui a un chilometro di distanza e aspettiamo facciamo così e poi così e poi così ok allora cos'è questa nave inglese finalmente ragazzi ci siamo o riusciamo finalmente a buttare giù qualcosa allineiamoci allora abbiamo già qualcuno che sta maneggiando il computer quindi possiamo agganciare il bersaglio ok siamo in posizione di tiro perfetta a questo punto io potrei anche semplicemente aspettare un momento che mi passino davanti che mi passi davanti e tirare per il scoppio d'attacco andiamo a vedere ok abbiamo detto che era un explorer vediamo assolutamente velocità 5 nodi via mai 5 nodi circa non so neanche che sto facendo i calcoli ce li abbiamo a 300 metri scarsi 6 nodi angolo di prua deve essere questo distanza sono 300 metri Eeeh Los Ok è buono C'è un po' un'inclinazione Eccessiva Preso E' assolutamente affondato Immersione E andiamo A confermare la prima preda Eccoci Andiamo Ci sono due interazioni Relitto Controllo dei nuovi sopravvissuti Kit medico Pezzi di ricambio Ok E' bello che si possa raccattare anche qualcosa dal relitto Andiamo a prendere anche qualche sopravvissuto Purtroppo il nostro sottomarino come vedete è microscopico ma Possiamo comunque Caricare un paio di sopravvissuti No non voglio mandare un palombaro 9 sopravvissuti 9 sopravvissuti E' il capitano E' il capitano Perfetto Confermiamo Ok E tutti gli altri Stiamo a posto così Perfetto A questo punto Dovremmo aver detto e fatto tutto il necessario Abbiamo di sicuro tirato giù delle navi Un buon tonnellaggio Allontaniamoci Cerchiamo di finire questa missione il più rapidamente possibile Ci sono ancora qualche centinaio di chilometri Ma non abbiamo sostanzialmente siluri per un secondo ingaggio E c'è andata di lusso perché Mi sono messo a giochicchiare con i comandi Quando avevo la nave davanti E abbiamo rischiato molto a lanciare i siluri così angolati Prossima volta che mi capita una situazione così Tiro dritto dicendo ai siluri di andare dritti Quando vedo la nave davanti a noi Perfetto Intanto noi dovremmo aver finito Il nostro pattugliamento Missione completa Pattuglia completa E segniamo per tornare indietro Ok 1, 2, 3, 4 6 sopravvissuti Ok Siamo a 35 chilometri dal porto Possiamo entrare Piaggia terrificante Quindi non mi aspetto la banda ad aspettarci Nonostante torniamo da vincitori Con anche una cassa Distintivo bot di guerra Distintivo bot di guerra Viene assegnato ai membri dell'equipaggio Che hanno partecipato a due missioni Ok 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 E noi invece Per la croce di ferro Siamo a 7 su 10 E abbiamo il nostro istintivo di guerra Guarda di tonnellaggio Abbiamo fatto 4.000 tonnellate 4.368 tonnellate Avanti Empire Clarion affondata Più 200 di ricompensa Questa nave è stata registrata in Gran Bretagna E trasportava scorte mediche da Londra A Bergen Avanti Tonnellaggio già affondato Mercantile Trovo la nave A Non l'abbiamo fatto Opzionale affondo mercantile Non l'abbiamo fatto Avanti Abbiamo tutti i personaggi da livellare E abbiamo questi sopravvissuti da consegnare Ma noi per il momento ci fermiamo qui E alla prossima